La nuova Mini Countryman, 4 sono i posti, con possibilità anche del quinto posto. 4 sono i metri di lunghezza, 4x4, adatta a tutte le stagioni. Funzionale e intuitivo è il nuovo sistema di navigazione. La nuova Mini Countryman, 4 sono i posti, 4 sono i metri di lunghezza, 4x4, adatta a tutte le stagioni. 4,4 sono i consumi della versione diesel a trazione anteriore. La nuova Mini Countryman, 4 sono i posti, con possibilità anche del quinto posto. 4 sono i metri di lunghezza, 4x4, adatta a tutte le stagioni. Funzionale e intuitivo è il nuovo sistema di navigazione. La nuova Mini Countryman, 4 sono i posti, 4 sono i metri di lunghezza, 4x4, adatta a tutte le stagioni. 4,4 sono i consumi della versione diesel a trazione anteriore. 5,4 sono i metri di lunghezza, 4 sono i metri di lunghezza.